Oggi vediamo quali sono i sette errori da non fare nel nostro orto, sono quelli più importanti, sono quelli che se li commettiamo perché magari non ci abbiamo pensato, non ci abbiamo fatto caso, possono anche compromettere il raccolto, il buon raccolto del nostro orto. Andiamo subito al video, spollici attenzu se vi piacciono gli argomenti di questo canale. Un primo errore che possiamo commettere è quello di non considerare a fondo il nostro terreno per la coltivazione degli ortaggi. Se al tipo di terreno che abbiamo, se è pesante quindi argilloso, medio impasto, oppure leggero quindi drenante, noi dobbiamo andare a selezionare quegli ortaggi che meglio si adattano. Se abbiamo un terreno pesante argilloso non potremo chiaramente andare a coltivare tutti quegli ortaggi che soffrono di asfissia radicale, ma potremo invece andare a coltivare ad esempio i fagioli, il prezzemolo, i peperoni, ma anche i pomodori. Su un terreno invece a medio impasto si adatta bene un po' qualsiasi tipo di ortaggio, quindi anche le melanzane, le zucchine, i cetrioli, anguri e meloni, ma non si adattano altri ortaggi che vogliono terreni invece molto leggeri. Su un terreno leggero invece si adattano benissimo quegli ortaggi da radice, come le carote, come le patate. Un secondo errore che possiamo commettere è non considerare o sbagliare il sesto di impianto. Che cosa significa il sesto di impianto? È il posizionamento corretto della distanza tra le piante. In base al tipo di ortaggio che noi abbiamo dovrà rispettare una certa distanza tra le piante e tra le file. Questa distanza permette la corretta crescita vegetativa dei nostri ortaggi. Questo fa aumentare le patologie fungine come oidio, botrite ed anche la presenza di insetti dannosi. Ma anche l'opposto non va bene. Un sesto di impianto lontano, quindi distanza tra una piantina e l'altra, vuol dire che avremo una bassa resa in produzione di ortaggi rispetto ad avere un sesto di impianto adeguato. Un terzo errore che possiamo commettere è quello di non valutare l'esposizione solare del nostro orto. Ci sono ortaggi che amano il pieno sole, chi preferisce vivere in mezz'ombra, chi riesce a sopportare anche l'ombra piena. In un orto in pieno sole va bene coltivare peperoni, patate, pomodori. In un orto in mezz'ombra invece si preferisce coltivare le zucchine, i cetrioli, la bieta ed anche il basilico. Se abbiamo una zona dell'orto con molta ombra allora lì potremo andare a coltivare le aromatiche ma anche il prezzemolo, le fragole ed anche l'insalata. È chiaro che adesso abbiamo capito che noi non possiamo andare a mettere in pieno sole l'insalata perché ben presto appassirà, neanche possiamo andare a mettere i pomodori in piena ombra perché lì poco produrranno. Un altro errore che possiamo commettere è il periodo del trapianto. Ogni ortaggio ha più o meno una resistenza alle temperature minime notturne e quindi dobbiamo andare a trapiantare quando quelle temperature sono superiori alla vita dell'ortaggio. Prima di andare quindi a trapiantare un ortaggio in pieno campo siamo sempre attenti alle minime notturne, ad esempio un cetriolo o un melone soffre molto il freddo. Un altro errore che possiamo commettere è l'irrigazione. L'irrigazione perfetta è avere un terriccio umido, mai troppo bagnato né troppo secco. L'eccesso di acqua non va mai bene alla pianta, inizia la pianta a soffrire di asfissia radicale, iniziano a comparire le prime patologie fungine all'apparato radicale, sono i marciumi radicali. Neanche l'opposto va bene, ossia far patire troppa sete ai nostri ortaggi. Ci sono alcuni ortaggi come il peperone e il pomodoro che lo stress lo manifestano con il marciume apicale e in questi casi i frutti non sono commestibili. Un altro errore che possiamo commettere è la fertilizzazione. La fertilizzazione di una pianta deve essere giusta, deve essere equilibrata, deve essere mirata a quell'ortaggio. Vi sto mettendo qui in alto il link del video relativo a concimare l'orto dove all'interno trovate tutti gli elementi nutritivi principali di cui hanno bisogno i nostri ortaggi. Un eccesso di fertilizzazione è errato perché la pianta è indotta a generare nuovi germogli, a crescere nella parte vegetativa invece di produrre fiori e frutti. Anche l'opposto non va bene, ossia una scarsa fertilizzazione della pianta. La pianta soffre di elementi nutritivi, crescerà poco, verrà sustentata e farà pochi fiori e pochi frutti. L'ultimo errore che possiamo commettere è trascurare i nostri ortaggi contro le malattie. Se noi siamo stati bravi a seguire tutti i passi precedenti ma poi alla fine i nostri ortaggi non li curiamo, il risultato dei nostri raccolti sarà poco soddisfacente. I nostri ortaggi e le nostre piante devono essere sempre ben monitorate, osservate e se vediamo qualcosa che non c'è cercare di capire cos'è che non va. Con l'attenta osservazione infatti potremo capire se quella pianta sta soffrendo di una patologia fungina piuttosto che un attacco di insetti e quindi capire quale prodotto potremo andare a dare per intervenire nella sua difesa. Per quanto riguarda le malattie se navigate all'interno del canale troverete molti video che possono essere di vostro aiuto. Ripetiamo insieme tutti quanti i concetti. Primo valutare sempre il tipo di terreno che abbiamo in modo da sapere quali ortaggi coltivare. Secondo usiamo sempre la giusta distanza tra i nostri ortaggi sia tra le piante che tra le file. Terzo osserviamo il nostro terreno e memorizziamo dove c'è sempre il sole o dove c'è la mezzombra o dove c'è l'ombra completa in modo da coltivare in queste zone gli ortaggi che meglio vi crescono. Quarto trapiantiamo i nostri ortaggi solo quando le temperature minime esterne sono adatte a farle crescere senza nessun problema. Quinto annaffiamo le nostre piante in modo corretto. Tra un'annaffiatura e l'altra fate asciugare un po' il terreno. Il terreno deve essere umido, mai troppo bagnato e mai troppo asciutto. Sesto concimiamo le nostre piante dando il giusto apporto nutritivo. Non esageriamo con il concime, il troppo o il poco porta ad effetti negativi. Settimo curiamo sempre le nostre piante, quando andiamo nell'orto soffermiamoci ad osservarle e se notiamo che c'è qualcosa che non va cerchiamo di agire velocemente nel risolvere questa situazione, sia che si tratta di attacco di insetti che si tratta di attacco di funghi. Ci vediamo alla prossima ragazzi ciao, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio.